Nel 1509 Enrico VIII morì e suo figlio salì al trono. Una delle sue priorità era trovare una moglie il prima possibile e avere un figlio per assicurare la continuità della dinastia Tudor. Scelse Caterina come sua sposa, nonostante il diritto canonico proibisse che un uomo sposasse la vedova di suo fratello. Tuttavia, Enrico sostenne di poter fare un'eccezione in quanto il matrimonio non era stato consumato. Anni dopo, avrebbe usato l'argomento contrario come pretesto per il divorzio, affermando che il matrimonio era maledetto agli occhi di Dio. La questione dell'erede era così urgente che Caterina ebbe sei gravidanze in nove anni, ma solo uno dei figli sopravvisse fino all'età adulta, una bambina nata nel febbraio 1516, che in seguito divenne regina con il nome di Maria prima, ma fu ricordata con il soprannome di Maria la Sanguinaria. Caterina d'Aragona, figlia dei Re Cattolici e prima moglie di Enrico VIII, fu molto amata dal popolo inglese durante il suo regno, ma suo marito decise di divorziare da lei perché non gli aveva dato il figlio che desiderava. Nell'estate del 1501, l'infanta Caterina d'Aragona, figlia minore dei Re Cattolici, partì per l'Inghilterra e non fece mai ritorno. Abbandonò la sua infanzia e l'amata Granada, dove si era trasferita dopo che i suoi genitori avevano riconquistato la città e i mori. I suoi genitori avevano deciso che sarebbe stata la persona giusta per stabilire un'alleanza matrimoniale con la dinastia Tudor, di recente creazione, e per fare fronte comune contro la Francia, loro grande rivale. Il suo sposo sarebbe stato Arturo Tudor, primogenito del Re Enrico VII d'Inghilterra ed erede al trono. Caterina discendeva dalla linea materna dell'antica casa reale inglese dei Lancaster, portando così maggiore legittimità al giovane regno dei Tudor. Tuttavia, non era trascorso neanche un anno dal suo arrivo che il marito morì per una misteriosa malattia chiamata sudore inglese a causa dell'intensa sudorazione che provocava. La morte dell'erede pose Enrico VII di fronte a un doppio problema. Da un lato, il suo secondo genito, il futuro Enrico VIII era ancora minorenne, e dall'altro, se avesse richiamato Caterina dal padre Ferdinando d'Aragona, avrebbe dovuto restituire anche la dote ricevuta. Mentre ponderava sul da farsi riguardo alla nuora, la principessa dovette rimanere in Inghilterra per sette anni, durante i quali assunse il ruolo di ambasciatrice del padre, diventando così la prima donna nella storia a ricoprire tale incarico. Aveva ricevuto un'ottima educazione, parlava diverse lingue e, secondo i cronisti dell'epoca, era non solo colta, ma anche esperta nelle questioni di corte. Certo è che Caterina d'Aragona fu più amata dai suoi sudditi che dal marito. Essendo un'infanta, ricevette un'educazione religiosa e umanista, diventando nota come regina pietosa e sensibile. Iniziò un programma di assistenza per i poveri e faceva regolari donazioni alle opere di carità, specialmente durante le festività. In particolare, guadagnò simpatia presso gli inglesi quando chiese pubblicamente clemenza per alcune persone coinvolte nella rivolta xenofoba di Evil May Day del maggio 1517, per compassione cristiana verso le loro mogli e figli. Anche alla corte di Enrico VIII, Anna Bolena era rispettata e non mancavano coloro che cercavano, in modo più o meno esplicito, di sostenerla. Persino la sorella del re, Maria, tentò di farlo desistere dalla sua decisione, lo fece anche Tommaso Moro, all'epoca lord cancelliere d'Inghilterra, che pagò con la vita per questo gesto. Anche tra i suoi nemici era ammirata, seppur non amata, Thomas Cromwell, l'uomo che facilitò il matrimonio di Enrico con Anna Bolena, disse di lei che, se non fosse stata per il suo sesso, avrebbe potuto sfidare tutti gli eroi della storia. Il 7 gennaio 1536 Caterina d'Aragona morì nel castello di Kimbolton, vicino a Cambridge. Venne sepolta nella cattedrale di Peter Borough, ma il re non partecipò al funerale e proibì alla figlia Maria di partecipare. La sua sepoltura la identificò semplicemente come principessa vedova di Galles, nonostante lei si considerasse l'unica legittima regina fino alla fine dei suoi giorni. Ancora oggi la sua tomba riceve offerte di fiori e biglietti, e ogni 29 gennaio si celebra una messa cattolica in suo onore, anche se si tratta di una chiesa anglicana, una scelta particolarmente insolita. Tra tutte le mogli di Enrico VIII, Caterina fu senza dubbio quella più amata, sia in vita che probabilmente anche dopo la morte. Grazie a tutti.